Siamo a Cofete nella punta estrema dell'isola e qui stiamo vedendo la spiaggia, siamo sul bus che ci sta portando verso Punta de Candia. Siamo fermati per questo video. Il video panoramico della zona. Siamo fermati per questo video. 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 Siamo fermati. Siamo fermati. Siamo fermati. Siamo fermati per questo video. Siamo fermati. Siamo fermati. Siamo fermati. Siamo fermati. Siamo fermati. Siamo fermati. Siamo fermati.